Anche quest'anno numerosi bambini, giovani e adulti hanno partecipato alla maratona non agonistica di solidarietà Corri con me, svoltasi questa domenica 9 ottobre in piazza Garibaldi. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Persone Down Onlus di Caltanissetta. Un'iniziativa questa in cui l'integrazione si unisce al divertimento, spensieratezza e socializzazione. L'IPD si impegna dal 1979 per la tutela dei diritti delle persone con la sindrome di Down. Si occupa di sensibilizzazione e di informazione. Sono presenti in tutta Italia delle sezioni e per l'esattezza 43. La sezione Nissena nasce nel 2005. L'obiettivo è quello di promuovere l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con sindrome di Down. diverse le attività che l'Associazione svolge sul territorio, come ad esempio le campagne di sensibilizzazione, i corsi di educazione all'autonomia per adulti e bambini. L'evento che noi continuiamo a proporre ogni anno con grande entusiasmo sta raggiungendo sempre più la cittadinanza. La dimostrazione viene dal fatto che oggi abbiamo una presenza notevole qua in piazza, sia come iscritti, perché abbiamo già raggiunto, superato i 200 iscritti, e sia come popolazione in genere, perché la piazza è piena, quindi contiamo una presenza di almeno 800 persone. Questo ci aiuta molto nel riuscire a trasmettere il nostro messaggio di integrazione tra le persone diversamente abili e anche persone di altre nazionalità. In mezzo alle persone abbiamo visto anche marocchini, rumeni, quindi una popolazione molto variegata che sta partecipando con gioia e con allegria a questo evento. Noi attualmente, oltre alle manifestazioni che portiamo avanti, abbiamo in attivo due corsi di autonomia, un corso per preadolescenti e un corso per adolescenti e adulti.